No Ita Con mondo generato In modo randomico proceduralmente Ma il punto forte di questo gioco In pixel grafica è che Viene riprodotto Tutto quello che è l'aspetto fisico Quindi i liquidi, l'acqua Insomma tutte le cose Possiamo andare a bruciare, vaporizzare Possiamo fare veramente Di tutto, possiamo fare anche una pessima fine Noi siamo questa sorta di mago Che può, vedete con Il movimento E può col tasto Sinistro Sparare, col tasto destro Non possiamo ancora usarlo Ma avremo un incantesimo uno sparare E poi possiamo Ovviamente levitare Col tasto F diamo un calcio Col tasto I Apriamo Quello che abbiamo nelle mani E col tasto 1 e 2 Possiamo scegliere il nostro Una bacchetta diversa In questo caso Questa bacchetta Mamma mia ragazzi Scusate ma io posso Sì posso morire Voglio morire Ok Mi fa vedere Le statistiche Gold 0 New game Va bene Dai iniziamo da capo Allora Scusate Devo verificare solo una piccola cosa Ok Allora andiamo Nuovamente Ed evitiamo Nella maniera più assoluta Nel gioco in early access Quindi c'è una cosa diversa adesso Questo è un carretto Sì ma Vabbè Guardate che bello Ho girato il carretto Al contrario Ed è diventato così Voglio fare Un disastro Voglio vedere Ok Entriamo nelle miniere Ma noi possiamo Levitare Ah no Qua in alto Vedete La barra Della magia Insomma Ho paura Molta paura Ah c'è un mostro lì C'è un mostro là È morto Ok Voglio fare una cosa Che io Non volevo Ma Insomma Direi che è il caso Ok Ah giù lì c'è dell'acido Quindi direi che Non andiamo avanti Come mi dà una goccia Come se mi fossi Bagnato Forse Quindi dobbiamo fare attenzione Eventualmente Anche all'elettricità Presumo Sperando che Ok Scendiamo piano Mi appoggio così Ho sentito un Cos'è questo? Ok Con Vedete Oil Mo Oil Oil è il petrolio Quindi Voglio vedere Che cosa succede Col petrolio Voglio vedere col petrolio Cosa succede Anche perché Sono bagnato di petrolio Anch'io Quindi sta andando a fuoco Tutto Ecco Queste sono Le autentiche Genialate Che Che io apprezzo Degli indi Perché questo è un indi Allo stato puro Si chiama Noita E Il gioco Si chiama Noita E non è in italiano Insomma È giusto No Non ho più Non ho più Le bombe Eh sì Niente Bacchetta scarica Ce la arrangiamo Ma guardate qua Sta veramente bruciando Tutto qui Sta venendo giù Questa sabbia Che si deposita qua Eh Il gioco dicevo È in early access Infatti Potrebbero esserci Potreste aver visto Magari lo schermo nero Prima Adesso non so Devo ancora rivedere Perché alla morte Praticamente la finestra Del gioco viene chiusa E viene riaperta Allora Anche tutti Sti tizi qui Vengono Ha preso fuoco Intanto io Continuo a Esplorare Da questa parte Lì vedo Degli occhi scuri Uh Ok Voglio capire Ma Non ho più Bombe Non ho più niente Devo Recuperare Le bombe Vabbè Niente Col tasto Tab Sì Ok Abbiamo questo Ma poi possiamo Cambiare Ok Potremmo prendere Altre cose Perché Abbiamo Vedete Gli incantesimi Potremmo avere Più incantesimi E potremmo avere Anche degli item Da poter utilizzare Mi ricorda Un po' Anche Dungeon of Dreadmore Un gioco Veramente Molto cattivo Gold Prendi La La pepita Sta per scomparire No Quella è scomparsa Vabbè Troppo tardi Speriamo di trovare qualcosa Per poterci curare Presto Perché Qualche cos'è Sangue Blood Sì sangue Sangue Infatti quello lì sotto È macchiato di sangue Io adesso Sto cercando Di Capire So che a voi poi piace Vedermi morire In modo brutale Quindi Mi presto Mi presto con simpatia Ok Questa cos'è Ok Adesso sono Contaminato Da sangue Ricoperto Completamente di sangue E di veleno Non dovrebbe essere Una combinazione Letale di per sé Ma mi sto pigliando Tutto il danno Del veleno E probabilmente Morirò a breve Lì sotto Visto che c'è un mostro Abbastanza Possiamo fare Allora Avete visto Aia Maledetto Avete visto Che cosa Cioè volevo buttare giù Questo Questo cosa qui Ma mi limiterò A fare un buco qui E riempirlo Di petrolio A riempire tutto il mondo Sotto di petrolio Vediamo se Funziona Insomma Se Possiamo farlo Ma non credo Perché qua Non si rompe Io adesso Vado qui Quello lì è Sporco d'acqua No Non Non cede Vabbè Io voglio fargli Del molto male Ok Siamo morti Per un proiettile Magico Va bene Abbiamo fatto Record Abbiamo ottenuto 123 gold In 5 minuti Siamo arrivati 81 di profondità Siamo morti In totale Due volte Non abbiamo mai Vinto il gioco Riavvio nuovamente Noita Andiamo avanti Riproviamoci Di nuovo Terza volta Terzo round Nuovamente Il gioco Ci spiega Voglio vedere Se si può morire Anche di altitudine Probabilmente Sì Che domande stupide Mi faccio Vabbè Il mondo è cambiato Possiamo andare nuovamente Si può salire No Il calcio Non l'ho mai usato A dire la verità Quindi Magari Allora Voglio fare una cosa Allora Le bombe Le abbiamo Quindi Ok Entriamo nelle miniere Sono pienamente D'accordo Con te Lì ci sono Del gold Vediamo se si può Scavare anche così No Ma direi che Non è Starbound C'è un Beholder Che schiviamo Molto agilmente Che lancia Veleno Tra l'altro Aia 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 Mi sta Corrodendo Ah ma è morto Ok E qua sta andando Tutto a fuoco Sta andando a fuoco Perché sono sul veleno Come un pirla E quindi Io adesso Mi nascondo Qui dietro Ok Oh però in acqua Mi passa Ok Ok Passa tutto Nell'acqua Lì c'è il Gollum Che sta prendendo fuoco Qua c'è Ok Diciamo che In questo gioco Le esplosioni Non vanno mai Per il sottile Questa sembra essere Uh Cos'è questa Polvere nera Crepa Faccio giuro di qua E lanciate bombe Maledetti Niente Sto morendo Sto morendo Farò una brutta fine A breve Uh Cosa vedo lì C'è un cuore Ok Bastardi Ho tanta acqua Io mi butto in mezzo Elta pick up Ho preso una vita extra massima Ok Siamo a 41 Adesso è vita 125 Ok Abbiamo aumentato Ah ma qua è tutto È tutto pieno d'acqua qua No 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 Sta semplicemente evaporando l'acqua per il calore Che genialata Vabbè Quindi Qua brucia tutto E c'è ancora qualcosa che Non ha finito di esplodere C'è qualcosa anche qua sotto Che non capisco cosa sia Io nel dubbio faccio saltare tutto Ok Andiamo giù a vedere Una nuova bacchetta Una nuova bacchetta Potrebbe fare anche il paiolo A Binding of Isaac Questo gioco Prendo la nuova bacchetta Premi di nuovo Sulla slot 3 Perfetto Ho preso una bacchetta nuova Che cavolo fa questa bacchetta? Buuuu E' uguale all'altra Scusate Adesso Continuiamoci in giro Cast delay Spell 1 Shuffle 1 Capacità 6 Capacità 1 Capacità 3 Ah ok E' un po' come il gioco di ruolo Dove vi danno le cariche Nella Ah è carbone questo Ok No Ok Il carbone prende fuoco Sta prendendo fuoco tutto Lì sopra Però lì sotto vedo che c'è qualcos'altro Vedo che c'è qualcosa che brilla Quindi io Sono curioso E vado a vedere Mi butto nel Cavolo è successo E' una trappola Scusate ma No no Sono morti tutti No Non sono morti tutti Sto per morire io adesso Ok Adesso sono morti tutti Presumo Ok Non ho capito Come ho fatto a finire lì Però Vabbè No Ok Vabbè Lasciamolo bruciare Vedete qua ho finito Lancio la bomba lì Piazza la bomba E scappa Ok Abbiamo aperto Le due Porte Adesso devo aspettare No Ok Il pavimento è impenetrabile E va bene L'abbiamo capito Io adesso voglio uscire da qui Senza bruciarmi Perché alla prossima Sputo che ricevo Mi fanno pezzi Quindi Carissimo Qua sotto c'è un'altra bacchetta Quindi io Ne ho No Non si può Ho finito i colpi Eh sì Volevo prendere un'altra bacchetta No Non si può bucare qua E non so perché Comunque Questo qua Mi fa il paiolo adesso Appena arriva Infatti Vabbè Vediamo se abbiamo fatto Nuovi record Abbiamo fatto Un posto visitato Uno Sì siamo arrivati là Sì siamo arrivati là 16 nemici Record Non è record per 4 d'oro Profondità 77 metri Siamo morti di nuovo Proviamo l'ultima volta Che mi sta Intrippando abbastanza Non so dire All'inizio All'inizio Ok abbiamo scoperto Qualcosina Qua vedete Già diverso Si fa giù proprio A rotta di collo E c'è già un oggettino Che cos'è? Eh abbiamo preso un oggetto Che è Che è What is this? Eh Uh La fiaschetta Dell'invisibilità Ma allora Allora ditelo La proviamo subito Appena si mette male Vedete che possiamo Con la tastina del mouse Andare a scegliere E tette E calà Io Fluttuo Ok Fuggi Fuggi No Ok Sta bruciando tutto Posso passare? Scusate No Spor Niente Si va di qua allora Ah guardate come sta andando giù l'acqua Io mi butto nell'acqua Così mi bagno bene Sto qua Nuoto Ok Allora questa magari Troviamo un altro oggettino Interessante Qua sta bruciando tutto Si sta inondando tutto Non dovrei avere più Ehm Oh ecco Figo È caduto anche questo Non dovrei avere più Pozioni Quello Ok Oh lò 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 No No Volevo usare la pozione La usiamo adesso Adesso appena La Il gioco si fa duro Ok Pronti? Mamma mia Quanto si va giù Bevo E sono invisibile Quindi tecnicamente. Non dovrebbero vedermi. Mi vedi? No, non mi vede. Buondì. Andiamo, andiamo, andiamo. Carissimi. Voglio arrivare il più lontano possibile senza farmi vedere. No, mi vedono adesso. Perché mi vedono? Perché non ho usato la cosa ma l'ho semplicemente buttato a terra. Vabbè, cos'è sta roba? Ok, ok. Questo era un teletrasporto. Va bene. Cos'è questo? Siamo entrati nella montagna sacra. Interessante. Ok. Ah, ok. Alla Binding of Isaac e tutti gli altri. Possiamo andare a spendere il gold che abbiamo guadagnato. Possiamo prendere questo. Che cos'è? È una motosega? Sì, è una motosega a catena. Una Rock Spirit. Non abbiamo soldi per comprare niente. Va bene, niente. Peccato. Andiamo avanti finché morte non ci separi. Ok. Qua? Che cosa si può fare? Ah, qua? Chiudi l'inventario per prendere più sangue. Immunità dall'elettricità. E... Edit. Ah, puoi modificare le bacchette ovunque. Ah, posso fargli un editor? Ah, ma possiamo andare. Abbiamo sbloccato il potere per andare a prendere e cambiare il potere e aggiungergli e ritogliere. Cioè, insomma, dare... combinare oggetti con le bacchette. Eccezionale. Eccezionale. È bella questa cosa. Ah, beh, classico che si distrugge tutto. Dopo... Sta arrivando qualcuno? Ho visto... Mi è sembrato di vedere un gatto. Vabbè. Vabbè. Dopo, che male vuoi che faccia, insomma. Ok. Gold. Andiamo avanti. Oh, c'è qualcosa lì. C'è qualcosa lì. C'è qualcosa lì. Però c'è anche qualcosa che sta distruggendo tutto. Quindi io prendo questo, gli metto la bomba e scappo. Ok. Mi sono fatto male. Posso metterne un'altra? Grazie. Eh, no, ma mi scivola giù. Eh, no. No, direi che... No. Oh, popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Fatemi ricaricare Voglio andare a vedere No, non posso Scusi eh A breve mi finisce il potere Devo tornare giù, ok, molto bravo Eccolo lì Scusate, perdonate No Scusi No Ok, voglio andare su E vedere se c'è qualche potere Che posso prendere qui Ma c'è veleno da tutte le parti Ok Crepi un po' anche lei Eh no, lì c'era un potere Ma dobbiamo distruggere la montagna intera Quindi non possiamo Cos'è questo? Ah, polvere da sparo Eh niente, siamo schiattati Però abbiamo fatto il nostro record Perché abbiamo fatto 182 record, 3 posti visitati Con il record nuovo Per centrare a 1 Abbiamo ucciso 6 nemici Non abbiamo fatto granché Massimo della vita 100 Abbiamo avuto 125 La partita precedente 4 oggetti trovati Che sono un nuovo record Questo è Noita E Fatemi sapere che cosa ne pensate Probabilmente poco fa avete sentito Un rumore tipico Del rumore di stima E la mister Che mi chiedeva Com'era il gioco Infatti adesso Andrò a dirgli Che lo trovo Un'autentica figata Ovviamente non è un gioco per tutti È un roguelike Più indie Che più indie Non si può Però avete visto Che anche solo Il fatto di aver sbloccato Questa possibilità Di modificare le bacchette Ci modifica il gameplay Si presterebbe bene Per una bella live O una piccola serie Fatemi sapere che cosa ne pensate E noi ci sentiamo Al prossimo video game play Alla prossima ragazzi Ciao ciao